Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale! Oggi faremo una sfida di boomerang. Il boomerang consiste nel prendere la coda del nastro, tirare indietro la bacchetta e poi riprendere. Di rimbalzo, la bacchetta. Avremo 30 secondi ciascuno e chi ne farà di più sarà la vincitrice. Ok, chi parte? Parte Mary, via! Uno. Non vale. Due. Quindi 10 secondi. Stop! Cinque, vale perché l'aveva già lanciato? Cinque. Cinque. Prontà? Vai Anna, via! Tre. Cinque. Cinque. Sette. Prontà? Ci sei? Via! Via! Do it. 2 6 matti 3 2 1 via no 2 3 ci sei Noemi? come no? 3 2 1 via 1 2 3 3 3 3 2 1 via 1 2 3 4 4 5 6 6 9 9 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 14 19 19 20 20 21 22 22 23 22 23 24 24 3 2 1 vai Lucy 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 all'ultimo secondo vince Lucy bravissima ciao ciao 20 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 4 3 1 Grazie a tutti